Le tre parole che hanno ispirato questo Salone del Mobile per Fantini sono innovazione, sostanza e partnership. Innovazione perché ci piace sempre presentare nuovi ma collaudati percorsi e ci piace farlo con altre belle aziende del design. Leggerezza è la parola che mi viene in mente se penso al progetto AA27 disegnato da Michael Anastasiade. Leggerezza perché le forme ben proporzionate sono veramente minime e la bocca del rubinetto è sospesa, quindi molto leggero. Giocosità è la parola che avvino a Nice, il nuovo progetto di Matteo Thun e Antonio Rodriguez. Per la vastità della gamma e i colori trasparenti delle sue maniglie in metacrilato. Classicità è la parola che abbino a Icona, l'elegante e senza tempo serie disegnata da Vincent van Doesen che presentiamo nelle raffinate finiture PVD. La parola che mi piace abbinare a Santini è rispetto. Rispetto del consumatore, rispetto dell'ambiente, ma soprattutto rispetto nel fornire un prodotto di qualità.